Avere il pediatra di base e poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è un diritto per il bambino e per i suoi genitori. Eppure nella provincia di Pescara questo diritto sembra non essere così scontato. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle che questa mattina ha specificato come da circa un anno alcune famiglie di Scafa e dei 13 comuni del territorio a causa del pensionamento di due medici non rimpiazzati si sono ritrovati assegnati a pediatri che hanno abbondantemente superato il tetto massimo dei pazienti ammissibili e sono così in deroga. A rappresentare alla ASL la necessità di nuovi pediatri è stato questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che già mesi fa interessò personalmente l'assessore alla sanità Nicoletta Verì sulla delicata situazione di Scafa e degli altri comuni. Più che un problema tecnico direi che qui il problema è politico perché le risposte io le ho avute, le ho avute tecniche dicendo la normativa e questa non si può fare niente. Allora il problema è che lì c'erano quattro pediatri a regime e adesso ci sono rimasti due i due pensionamenti perché sono andati in pensione non sono stati rimpiazzati quindi potete ben immaginare tutti i cittadini immaginano che tutto il carico dei pazienti che prima si riversava sui quattro pediatri adesso si deve riversare su due pediatri e questo non va bene. Quindi politicamente io chiedo una soluzione per cercare di trovare la soluzione ottimale cioè rimpiazzare quei due pediatri la regione deve inventarsi qualcosa perché il sovraccarico di pazienti poi rende inevitabilmente un servizio non come quello che c'era prima perché quattro medici non sono come due medici naturalmente. L'unica soluzione che ci hanno dato, l'unica alla nostra battaglia che è iniziata diversi mesi fa è quello di consentire la deroga al massimale che prima avevano questi due pediatri ma la deroga significa andare a caricare a sovraccaricare ancora di più di pazienti e non va bene così quindi noi saremo accanto alle madre alle mamme continueremo questa battaglia e speriamo che a breve la regione Abruzzo possa trovare questa soluzione. Mi è stato detto che a breve la regione si siederà nuovamente al tavolo per fare un'ulteriore concertazione per cercare di verificare nuovamente i numeri ma questo è poco io voglio la soluzione quella di rimpiazzare i due pediatri che sono andati in pensione. Dal pensionamento dell'ultima pediatra che avevamo nel nostro distretto allora partiamo dal presupposto che noi fino all'anno scorso più o meno avevamo quattro pediatri nel nostro distretto, quattro pediatri di libera scelta. Nel giro di un anno sono andati in pensione due di questi pediatri e ci siamo ritrovati con solo due pediatri sul posto quindi la copertura che prima avevano quattro pediatri adesso se la ritrovano solo in due. Per noi significa in primis il non poter scegliere un medico per i nostri figli quindi siamo stati obbligati a prendere un determinato pediatra anche contro la nostra volontà non per nostra scelta quindi è venuto meno il diritto alla libera scelta dei pediatri. Nel momento in cui hanno raggiunto entrambi i medici il massimale non c'è stato più opportunità proprio di scegliere quindi siamo rimasti un paio di settimane scoperti senza pediatri in piena pandemia tra l'altro. La regione insieme al comitato regionale che si occupa di questo hanno determinato una deroga per i due pediatri che erano sul posto a prendere oltre il massimale i bimbi che erano rimasti scoperti io li chiamo bimbi sperduti e quindi hanno fatto questa deroga. Tanti genitori sono stati costretti ad iscrivere i loro figli di 7, 8, 9 anni dai medici di medicina generale.